eccoci qui ragazzi eccoci qui per la puntata 151 di leoni fuori il podcast dedicato a benetton rugby nazionale italiana mette di jesi non considerate da gonzalo che sada e ci mettiamo qualcos'altro qualche sport il padel il padel bravo danilo quali sono le regole del padel potremmo potremmo farci una partitina padel avete mai giocato voi ci manca giusto infatti fermi tutti chi di voi ha mai guardato il world padel tour che in spagna è tipo importante quanto io ci gioco ogni tanto a padel però ci manca sai che a padel si gioca in coppia ci manca il quarto chi potrebbe essere il quarto c'è uno che di recente ha deciso di farne una carriera un'identità che se non sapete di chi è ma aspetterete ancora un po durante il podcast che così non rilasciavo tutte le informazioni subito però volevo vedere se sai le regole marco tu sai le regole del padel buonasera a tutti e buonasera a tutte benvenuti a questa puntata del podcast numero 151 devo farlo scusate allora io ho giocato una volta padel a praga e pensavo sai è veramente pensavo fosse un tennis più piccolo quindi non è corri tanto ma tante cose porca vacca ero finito stavo sudando come una bestia stupo è così fra immagino che ho portato a padel no perché secondo me è che fai oppa no è dato però invece io ho avuto proprio la sensazione contraria cioè che a padel non ci si stanca nel senso che a tennis ti stanchi tanto di più a tennis poi è arrivato il tuo avversario e allora hai detto ah ok si gioca non contro il muro no quello è squash la tua intemperazione dello sport è molto relativa Danilo mi ricordo il torneo touch del content credo ho giocato un minuto stando fermo e poi si è uscito a dire dai ragazzi dai che ne gabbiamo ragazzi è presente quella cosa marco per cui chi non sa chi non sa insegna e chi non sa insegnare insegna ginnastica ecco chi non ha fiato allena a difesa del padel come sport pensavo fosse un po' una cavolata all'inizio ma in realtà ti dico corri un sacco e è divertente ci sta come cosa secondo me io continuo io continuo a non essere d'accordo sul corri un sacco perché secondo me invece Milo tu non corri un sacco la gente che fa sport e corre tu stai sotto la rete con la paletta alta a spazio cari la palla che ti ho preso la paletta ma quello io non ho sport innanzitutto corri se sei scemo perché nel padel ci sono i vetri corri se sei scemo nel senso che nel padel ci sono i vetri quindi se tu hai un minimo di calcolo del rimbalzo della palla al massimo sei quattro metri da una parte quattro metri dall'altra non è che non avevo messo in conto tuo abile calcolo del rimbalzo della palla nel padel quindi presente il meme con le equazioni che passano davanti è presente dal lino che sta fermo così con la paletta facendo i calcoli aspetta rimbalza lì quindi arriverà qui quindi ok una partita che guarderei marzi innocenti contro roberto mangi a padel no ma padel non si gioca da soli si gioca in coppia chi vuoi da una parte mi nozzi dall'altra vi metto un monario zambelli contro innocenti aloi così leggera perché sappiamo che a padel giocano soprattutto dirigenti di cose dirigenti di gente che arriva a lavoro in giacca se vuoi giocare bene a padel hai 125 per cento di rendimento nel campo da padel se il tuo lavoro comprende mettere una cravatta secondo me allora lanciamo una sfida alla chat nominateci le coppie di padel più immobabili assolutamente assolutamente diciamo l'ha scritto dalai arbitro questa partita innocenti aloi contro munari e banzato con dalai arbitro pensi che sia una cosa che ti lascio più spettatori di un zebra contro squadra x tipo sai quegli incontri di pugilato tra lo youtuber e conor mcgregor ammetto una partita che guarderei dico secondo me il prezzo come coppa in padel sono 2.5 milioni di euro un numero a caso è il premio finale della partita però immaginati che figata se le due franchigie giocassero un milione extra di budget con una partita a un altro sport qualsivoglia tipo giochi senza frontiere e quel milione deriva totalmente dalle visualizzazioni tipo televisive di questo evento nel capitolo gli scenari impossibili di matteo schiavinati pensaci danielo pensaci no 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 perdiamoci un gran cazzo pensaci un secondo tu pensa le due franchigie 60 giocatori tipo giochi senza frontiere gli fai fare altri sport dalle televisioni ricavi un milione chi vince se lo prende per il faccio allora ti dirò io ho visto un video bellissimo del basket idea di business aspetta il basket russo è frequente basket e wrestling insieme ed è ragazzi una cosa che dovete guardare noi lo facevamo da nulla da nulla arriva un ritro di te si deve togliere la maglietta prima di fare la ris si deve togliere la maglietta ci sono delle regole per pestarsi e ti fa un suplex assurdo ti fa un suplex assurdo no 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 ma noi allora io ho allenato ho vissuto in lituania per 15 anni ho allenato ovviamente in lituania in i campi si congelano in inverno no quindi non puoi giocare e allora cosa fai vai in palestra vai in palestra dove ci sono i campi da basket e noi facevamo una cosa simile perché quella che dici tu l'ho vista e ovviamente la metto che non si chiamava basket basket russo però però facevamo il basket rugby dove praticamente tu potevi spingere placare non c'erano regole con lo scopo finale che era quello di fare il canestro e ci si tirano ti ricordi ti ricordi di fare anche il canestro no oppure c'è uno sport bellissimo che è scacchi con la box ah bello quello e tipo giochi a scacchi e a tutto il punto c'è e parte a fare il box a tal proposito nel bannerino che sto per mettere sullo schermo vi consiglio un film che si chiama Muay Thai Dunk dove potete vedere esattamente questa cosa si pestano come degli animali ci sono anche dei calcinacci sul campo si prendono a mattonate in testa e ogni tanto uno fa una schiacciata però nella maggior parte dei casi ci sono ginocchiate su teste e cose del genere perché stiamo parlando del padel ragazzi? chi vuole utilizzare questo gancio per andare nel tema di giornata? il tema della giornata è che Matteo Minotti ha recisso il contratto giusto recisso in italiano? recisso recisso spagna, praga ho perso un po' l'italiano il contratto con la benetton rugby e nel comunicato diceva appunto che passerà dal rugby a aprire questo centro polisportivo col focus sul padel ora non so sinceramente se continuerà a giocare magari in un'altra squadra in Serie A Elite non l'hanno ancora detto però comunque questa è la notizia che appunto Minotti lascia la benettona ho riassunto bene l'italiano scambiando le parole grazie molto bene Marco e ci tengo a chiarire noi scherziamo ovviamente sulla cosa del padel però le scelte di una persona sono le scelte di una persona e si rispettano Minotti chiaramente da qualche mese forse anche da di più era cosa sono sei sette mesi che non lo vediamo in campo e negli ultimi anni ha avuto grossi problemi fisici poi c'è stato il problema dell'occhio poco prima della pandemia insomma è stato molto sfortunato ci può stare che un atleta come lui che purtroppo spiace a dirlo da tifoso uno dei più grandi prospetti si ne vada si no sposo totalmente quello che ha detto Matteo e dopo torniamo alla parte reggistica però che cazzo ci mancava un ala no però è stato la lunga più cringe dell'universo cioè io me lo sono immaginato quando l'ho letto ho detto no dai ma poi uno scherzo ho detto cioè è come se uno dicesse uno che un prete dicesse no ho deciso di di rimettere i voti e e da domani in poi mi giocherò la mia canna occio occio il forno il forno ma che cazzo di annuncio è allora grandissimo rispetto per Minozzi grandissimo ringraziamento ma c'era io ho detto ma che cazzo ma già veramente io ho capito che Minozzi ha voluto approfittare di quello spazio lì per anche promuovere un po' la nuova attività nella quale vi auguriamo tutti però è stato veramente cringe questa cosa qui smetto di giocare regno l'apertura che sarà ma codice codice sconto dump at panel ma va bene stavo pensando dei codici sconto però non erano simpatici ma a parte gli scherzi è un po' è un peccato non un po' un peccato è un peccato perché Minozzi ha tra l'altro credo 27 anni insomma è ancora assolutamente giovane ancora assolutamente non è che ha ancora qualche anno buono potenzialmente se Minozzi era in forma ne aveva ancora l'altra messa di carriera cioè se arrivava a quella carriera tipo Paris aveva ancora altri 12 anni di carriera per dire cioè nel 2013 George North era in campo nel 2024 George North è in campo nel senso se sei quel giocatore lì sei quel giocatore lì però magari si è rotto un po' le scatole tutto quello che vuoi come giustamente hai detto tu Matteo non andiamo a sindacare certo è certo è che se pensiamo agli ultimi anni questa cosa ci fa ragionare sulla fragilità del nostro sport no? perché tra problemi di concussion tra infortuni gravi tra scelte personali cioè a me viene in mente Manfredi Albanese che è in nazionale e decide di andare a studiare e gioca con la Lazio mi viene in mente da pochissimo Tony Rizzi che era il golden boy bravo Rizzi mi ha dimenticato già pensa ah anche lui scusa faccio un cantante ad un attimo associare Tony Rizzi e mia gara la Sarri San Giacomo scusami Antonio Rizzi poi appunto Minozzi mi viene in mente Venditti che se n'è andato in Australia Meyer dice Samuele Meyer che si è infortunato cioè guarda abbiamo perso metà di quella generazione lì l'altro Venditti che si è ritirato giornalistico purtroppo non sappiamo ancora ma anche lui adesso è dato lista infortunati però non 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 gira una bell'aria insomma quella generazione lì l'abbiamo veramente persa tutta cioè particolare sta cosa qua eh sì eh sì e purtroppo non so neanche cioè additare una causa è complicato se devo dire quello che secondo me personale opinione adesso abbiamo e allora non avevamo è un sistema di cattura della tra gli anni tra i 20 e i 23 anni diciamo che permette agli atleti di formarsi con calma all'interno di un sistema protetto e non che si debbano tipo inventare la vita completamente a 19 anni in campionato italiano che oggettivamente non è il pro di 2 cioè nel senso giocare in top 10 giocare in pro di 2 non è la stessa cosa quindi mi scuso se continuo a ridere però stavo leggendo il commento di Giacomo dove ripete sta cosa del padel e io non ce la faccio sta cosa l'ho trovata esilarante oggi non ce la facevo guarda leggo il commento di Giacomo che infatti dice ma infatti la notizia del suo ritiro non ci ha stupiti purtroppo perché mi associo al purtroppo ma è la cosa del padel che ci hai lasciati senza parole io ti confesso quando ho letto il comunicato del Benetton nella mia testa lo stava leggendo un personaggio di The Office con la faccia molto seria che ti guarda negli occhi tipo no e continuerò a giocare a padel a mia vera passione grande passione su sugli occhi su sugli occhi un momento cringe di silenzio shaky cam e poi lo sport che ho sempre sognato dove mi radici scusate magari magari diventa campione nel mondo di padel con l'Italia quindi questi gran casi infatti io ho detto Lebron Galan Tremate perché arriva Minozzi Sinner Minozzi Sinner in duo a padel chi lo sa la c'è lo giocare a te ma meno male ma che apri un centro di padel e non tipo un mini golf o una bocciovina perché pensate una pompa di benzina dietro il campo pensate il comunicato come sarebbe tanto ho detto a Jesolo una pista di mini golf da domani sarò il cameriere del gasoline a Jesolo basta quello che aveva verso i cipiti così mi aspetto no vabbè scherzi a parte cambiamo io credo non ce la faccio non ce la faccio no scherzi a parte la sua scelta è chiaramente derivante da un bisogno di cambiare aria che deriva chiaramente dagli ultimi anni che ha avuto perché facevamo i conti non mi ricordo quando sul gruppo whatsapp che abbiamo di quante stagioni buone effettivamente Minozzi abbia fatto e sono poche sono davvero poche nel senso che cosa ne avrà fatte? due serie tra Zebra e Wasps per il resto tra infortuni pandemia il problema che a momenti perde un occhio il cosa che poi per un momento si è si è ha chiesto una pausa per potersi riprendere allenarsi si è rimesso in forma falliscono i wasps questo non dipende da lui Treviso gli dà una chance quando probabilmente aveva già deciso di mollare forse non lo so perché magari dici cazzo però anche la mia squadra va in bancarotta torna in Italia probabilmente con le pive nel sacco perché gli piaceva dove stava a quel punto a Treviso non riesce a trovare spazio non riesce a rimettersi in forma si fa male capisco anche che a un certo punto dici anche vabbè ragazzi sti cazzi che devo fare cioè tra l'altro gli highlights delle sue due stagioni di Treviso sono il colpo di Kung Fu contro Edimburgo e Pani che lo pianta come un ombrellone nel derby nel derby sempre Treviso e lì finisce diciamo l'apparizione di Minozi Minozi ti vogliamo bene ti vogliamo bene io e tra l'altro volevamo addirittura invitare volevo dire volevo dire Minozi avrebbe potuto essere ospite oggi nel senso che io avevo chiesto prima dell'annuncio non sapevo niente di tutto questo se potevamo avere Minozi ospite oggi che era tanto che non si vedeva e volevamo dargli uno spazio anche per dire ai tifosi come sta così e mi è stato detto meglio di no in questo momento ma non sapevo del comunicato non ero ancora uscito quindi immagine ti sarebbe potuto magari lo portiamo più avanti a fare due chiacchiere magari ci dà un codice sconto a promuovere il centro ma chissà dove fa se lo fa a Padua o a Treviso il centro Padua o lo fa nella famosa città di Ballo Rugby perché qualcuno ha detto che qui si accetta dall'armadio di Roberto Manghi ha un armadio tu apri e entri adesso però Marco devi dire dove gioca il Ballo Rugby perché ti ho visto in difficoltà in Emilia sì l'Emilia grande però in Italia in Europa no perché ho letto mi sembra su un altro portale che c'erano queste voci che ci sono che magari per andare a giocare con con Violi che adesso sono amici quindi tra questo collegamento forse potrebbe andare lì che è l'allenatore adesso sì che però dopo dopo sì sì no dopo questi granissimi Marco c'è Andrea che dice Marco ho ciò che mi offendo perché c'è Andrea è letteralmente di Reggio Emilia allora la città di Ballo Rugby in provincia di Emilia Romagna è lì per essere no allora passiamo oltre e passiamo oltre a questo argomento ma prima faccio questo piccolo incipit per dirvi che ieri mi sono andato a touch a rugby dopo mesi e mesi che ero fermo devo anticipare i punti della scaletta attenzione ragazzo mio perché era in scaletta questa cosa qua ho fatto un allenamento a touch con la squadra del Pobre Nu Rugby e la cosa era così eravamo io e Jacopo che è il famoso inventore della carbonara di Carbo Rugby eravamo noi over 50 ragazzini e signore catalane ora a parte la lentezza perché era tipo un mix era tipo un mix quindi donne uomini anziani a parte la lentezza nella mente in sé questo momento bellissimo con la signora catalana dopo un'azione mi prende a parte e in spagnolo mi spiega che non devo seguire il senso del gioco è meglio invertirlo ogni azione a che io ho pensato ora com'è che ti dico che gioco rugby da 20 anni e probabilmente non hai mai visto una partita però in questo momento veramente topico della serata ma cosa vuol dire invertirlo? ci spiegava la tattica del Pobre Nu Touch anche te cosa vuol dire la cosa è che se tu segui il senso del gioco chiaramente è più difficile da difendere perché così vai sempre su quel senso del gioco lì ha senso seguire il senso del gioco invece le imbacevano cambiamola ogni volta così li mettiamo in conclusione all'avversario detto da una che pensa che ha fatto uno scatto in un'ora e mezza è stato un momento bellissimo ma il prossimo argomento di cui vorrei parlare con voi dopo questa bellissima esperienza che ho condiviso è la bellissima partita di Dublino Lester contro Benetton quando le due un primo a tempo un primo a tempo un primo a tempo in cui mi hanno detto cazzo sai quasi quasi e un secondo tempo mi hanno detto vabbè non sembra così io so che dato che dato che il coach ci ha detto di sbraccare il più possibile allora sbracchiamo che cazzo gli hai detto in sfogliatoio cosa è successo ci stiamo chiedendo discorso motivazionale di quelli giusti discorso motivazionale di quelli giusti beh il primo a tempo no il primo a tempo effettivamente hanno giocato una buona partita devo dire senza essere di parte un Marco Zanon spettacolare veramente questa partita perché ha giocato da Dio e secondo me il buon Gonzalino che Zada spero l'abbia vista e però poi ci siamo completamente persi e male male c'è giocatori che magari rispettavano qualcosa di più in mente Alborno magari che hanno fatto benissimo quella partita e Pettinelli che era se non sbaglio la prima che faceva in stagione con Benetton se mi sbaglio credo non la prima ma aveva fatto poco comunque forse a settembre ne ha fatta una a ottobre scusami ho iniziato il campionato sì forse ti aspettavi un pochino di più di questi giocatori che in realtà non hanno performato come dovevano però insomma doppietta di Mendy che ha fatto un po' il finisher però in generale devo dire molto bene Zanon e Umaga 15 mi è piaciuto ha fatto delle belle cioè protagonista della partita del nostro risultato ha fatto un calcio pazzesco da cosa metà campo è un ruolo tra l'altro che ha ricoperto tante volte in carriera quindi secondo me ci sta che Treviso lo usi 10 15 sì insomma peccato per il secondo tempo cosa dite ragazzi? per me la delusione principale è Fekitoa nel senso che in queste partite che hai bisogno del campione del mondo di turno che suona la carica che dà l'esempio e onestamente questo esempio non è alzare le mani o dare un placcaggio a caso a uno che non ha la palla incazzarsi mandare affanculo cioè nel senso mi è sembrato un ragazzino di 20 anni alla prima partita non ho capito dal nervosismo da dove fosse derivato perché mi sembrava veramente troppo nervoso per un giocatore della sua esperienza me lo sono sognato più volte nelle note della partita perché in un certo punto l'ho guardato ho cominciato a guardarlo in campo vedere proprio dove si muoveva anche senza palla e mi è sembrato veramente nervoso e con voglia di come quando ti si ingrossa la vena e dici boh adesso t'ammazzo tipo a uno che continua non so se l'hanno puntato e gli hanno fatto soltare i nervi ok forse sì perché l'Heinster è anche esperto su questo che ne pensate voi? sì su Fekitoa sono d'accordo con te ossia era un po' nervoso secondo me almeno ho la sensazione che non sia in grandissima forma in questo momento ed è un po' in ritardo su tutto e arrivando un po' in ritardo su tutto probabilmente questo accentua anche il nervosismo poi magari questa è una partita dove tu anche lui magari lo sa che ti aspetti Fekitoa che venga fuori e magari non ci riusciva certo è che mai avrei detto a inizio stagione che avremmo giocato la sfida al vertice con la copia di centri Zanon Fekitoa e avremmo detto grande Zanon brutta partita di Fekitoa se ci pensi no? è vero è vero lo diciamo al me del 2019 questa cosa magari il giorno dopo di quando si è cagato quel pallone Zanon con la Scozia tra cinque anni dirai questa cosa però Zanon Zanon quest'anno è stato veramente veramente bravo secondo me non ne ha sbagliata una di partita si è preso un man of the match se questa settimana per me è stato il migliore dei bianco verdi insieme probabilmente a Gallo se parliamo di singoli su Umaga che ha rinnovato Gallo che ha rinnovato tra l'altro grande cosa questa adesso poi ne parliamo un anno ma su Umaga sì per Umaga anche sbagliato tante cose cioè Umaga secondo me ha fatto una partita un po' rollercoaster ossia ha fatto delle bellissime soluzioni in playmaking più il calcio che tu hai detto per esempio anche la prima meta nasce da una bella hesitation di Umaga che muove su Zanon e poi Zanon ti ho copiato devo dire la verità che nelle mie pagelle ti ho copiato e ho scritto Sonny Bill Zanon perché avevo letto il tuo messaggio il tuo messaggio già le tue pagelle già le tue pagelle mi stanno veramente sulle Zebedei perché sono di un cringe incredibile e mi metti dei soprannomi che neanche l'asilo se più mi copi le cose e non mi citi cioè allora diciamolo cosa sei un po' fatto io non l'ho scritto forse nel commento alla partita l'ho detto comunque insomma si Sonny Bill Sonny Bill Zanon da Bassano del Grappa tira fuori un reverse pass fantastico e poi Mendy chiude invece secondo me è mancato per esempio Juren Andy Juren che in quella partita te lo immagini che deve prendere le redini ha fatto due errori secondo me brutti in dei momenti importanti per esempio quando non si accorge che quella palla che gli entra nei 22 è stata toccata da un giocatore del Benetton e va diretto in rimessa laterale quello è un errore di deconcentrazione secondo me e poi un passaggio per Zanon lungo però insomma io ho fatto l'analisi quindi non mi ripeto troppo però secondo me quello che è mancato a Treviso anche nel primo tempo è che Treviso ha fatto troppi errori gratuiti cioè Umarga che gli casca quella palla ok pioveva tutto quello che vuoi Juren che fa quell'errore lì l'avanti su Zanon Gallo che non retrocede sul calcio che gli cade nel nel circolo dei 10 metri ci becchiamo un calcio di punizia cioè un sacco di errori e aspetta quattro penalità in mischia in 15-16 minuti sì lì poi c'è anche un po' la lettura di Olly Davidson però quegli altri sono quelli non sono gratuiti perché quelli comunque è una lotta è forza invece i quattro che ho nominato quattro o cinque ce ne sono anche altri sono gratuiti cosa significa gratuiti? non causati dalla pressione poi possono essere causati dalla stanchezza dalla deconcentrazione eccetera eccetera e io ho fatto un po' nelle mie analisi un paragone tennistico cioè tu non vinci con i più forti con gli errori gratuiti cioè tu puoi fare errori perché cerchi l'incrocio delle linee nel rugby perché cerchi il passaggio over the top che poi magari ti porta a una meta ma non batti il Leinster in casa loro perdendo palloni senza pressione e alla fine secondo me Treviso non l'ha persa solo nel secondo tempo l'ha persa anche nel primo perché nel primo ho iniziato a incatenare questi errori che poi ci hanno portato a un finale di partita ma secondo te c'era forse un po' di fretta di esecuzione unito magari a un po' di sensazione di dover dimostrare qualcosa perché Leinster mi ha salato a sapere attendere il momento e mi ha colpito tanto questa cosa perché quando ero a Dublino avevo ascoltato un podcast mentre passeggiavo sull'Irlanda per capire un po' meglio la partita che andavo a vedere tra Irlanda e Italia e a un certo punto mi aveva colpito una frase che non ricordo chi aveva pronunciato dei tre del podcast che diceva che l'Irlanda è maturata talmente tanto che adesso non e citava Andy Farrell su questo adesso non cerca di costruire l'azione della vittoria sa che arriverà e si fa trovare pronta e Leinster ha ragionato così contro di noi primo tempo 21 a 18 per loro però su errori nostri quei 21 li hanno costruiti non tanto su una pressione folle che ci hanno messo però poi nel secondo tempo subito 12 a 0 all'inizio del secondo tempo e dopodiché si è visto che erano più forti molto chiaramente però hanno aspettato che noi gli lasciassimo lo spazio di farci male e questo secondo me questa pazienza è quello che forse fa il primo in classifica rispetto al secondo sono d'accordo e secondo me c'è un po' di timore il famoso timore reverenziale con il Leinster secondo me un po' c'è e che in parte è giustificato in parte no perché per esempio io l'ho detto il Leinster quest'anno comunque ne ha perse un paio ha perso con Alster con una formazione anche migliore di quella che ci schierava contro questa settimana ne ha prese una sporta da Glasgow contro cui noi giochiamo la prossima partita e poi fondamentalmente l'ho detto negli ultimi due campionati non ha vinto niente e non ha vinto né lo URC né la Champions per carità resta la più forte del mondo però secondo me non è una squadra non la più forte del mondo forse una delle è solo Ninaber che gli allena la difesa che troia però però secondo me dovremmo essere da un lato più concentrati e dall'altro più sfrontati invece siamo andati un po' con il famoso freno a mano tirato e il braccino il braccino di quando dici ma siamo sicuri che noi abbiamo avuto un po' di complesso dell'impostore sì 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 concordo cioè quella cosa proprio che ti fa quando giochi contro uno che sai che è più forte di te tu non fai le cose come le hai sempre fatte perché non vuoi che facendole questo ti dia la massima paga e tu sembri stupido stai più attento su qualsiasi cosa fai però alla fine poi non sei prevedibile sei e sei lento perché devi pensare sempre tre volte in più ogni cosa che fai e alla fine sei più macchinoso secondo me è un personale opinione ci sta ci sta dirò un po' di cose anche io allora prima cosa hai detto Leo Cullen e ultimamente c'è un giocatore del Panta Rugby penso che sia nella Lega di Carboreggy il suo nome è le orecchie di Leo Cullen e mi ha fatto spregare quando l'ho letto non so chi sei però ti adoro seconda cosa l'ho vista con i commenti inglesi e e loro mi sono messi a ridere un sacco durante la partita perché praticamente c'era Tave che ha avuto 4 o 5 occasioni poter prendere la palla e fare qualcosa ma non l'hanno mai passata e insomma incontravano la Tave che era incattata nero così perché dicevano però sto qua è pigiare enorme così nessuno la passa e devo dire che la Tave ha fatto un placcaggio devastante cazzo veramente penso sull'ora 9 sull'angolo stretto cioè muro completo la Tave e fa così la cosa al terzo giù secondo me allora è verissima questa cosa che avete detto anche voi su complesso un pochino andare lì così con il mano tirato insomma abbiamo perso un po' di posizione in classifica con questa sconfitta e ci stava il fatto è che adesso c'era una start della UFC che diceva che tra la seconda o la quarta e la decima posizione ci sono 4 punti di differenza cioè ci sono un sacco di squadre in quella fascia di classifica lì che hanno tutte più o meno 29 30 32 punti e quindi eravamo secondi al vertice fino a stimola scorsa invece adesso è un pochino più difficile diciamo rimanere lì perché la prossima giornata molto probabilmente darà ancora più squilibrio tra queste squadre qua io dico le due squadre che affrontiamo Leinster e Glasgow sono forse le peggiori che puoi affrontare quindi non mi aspetto una vittoria purtroppo neanche con Glasgow mi aspetto una bella partita rispetto a questa ma non mi aspetto una vittoria la voglio chiaramente ma sono le due squadre secondo me che forse finiranno il campionato prima e seconda e forse in questo momento dell'anno ci dice male anche un po' nel senso che non abbiamo modo di fare punti se no però anche qui vedi ecco per come parlo in effetti parlo con uno che ha la sindrome dell'impostore che non ci meritiamo di stare lì e invece forse dovremmo pensare che lì ci meritiamo di stare perché quei punti li abbiamo fatti tanto quanto gli altri sì sì sicuramente allora volete la misura della situazione la misura della situazione e sono andato a vedere le quote come sempre non tanto per accedere ai playoff eh vabbè ma è quello che ti dà la 87% treviso gli danno sì sì però ascolta quello al di là di vincere il campionato sì ma al di là di quello mi interessa a che posto della classifica siamo ossia dalla dalla prima favorita che il Leinster all'ultima favorita alle ultime favorite tre a pari merito che vediamo se indovinate chi sono beh gli Sharks le ultime le ultime le ultime tre ah ma aspetta Sharks Dragons e no 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 ma nelle quote per vincere il campionato ah ma di chi può vincerlo o includendo tutte e sedici ci sono tutte includendo tutte e sedici beh saranno Sharks Zebra e Scarlet no Dragon Scarlet e Zebra gli Sharks vengono dati un po' più in alto ipotizzando un'eventuale 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 comunque treviso si situa in questo momento all'ottavo posto ossia siamo quarti in classifica però guardando una proiezione sul calendario in questo momento i bookmaker ci danno ottavi dietro a pari merito col Connacht quindi settimi ottavi dietro c'è Edimburgo Edimburgo e Lions e Lions staccata Edimburgo cioè praticamente noi secondo e oggi come oggi secondo i bookmaker facciamo la corsa con Edimburgo e Connacht quelle sono le le squadre che si giocano quegli ultimi post ai playoff c'è da dire che finora i bookmakers sul treviso ci hanno preso pochissimo per cui forse questo è il limite basso secondo me è questa cosa secondo me il vero limite è il fatto che ci sono un sacco di punti bonus che abbiamo lasciato per strada cioè se avessimo fatto la famosa quarta meta o comunque bonus defensivi sulle sconfitte saremmo molto più tranquilli a livello di classifica però questo è quindi e vedi le zebra che hanno perso molte parti di noi però con i punti bonus anche la stima scorsa contro edimburgo l'ha fatto appunto bonus quindi comunque avanzo in classifica grazie a questa cosa e mannaggia se l'avessero vinta ci avrebbero fatto un grande favore e se la meritavano io l'ho guardata l'avete guardata anche l'ho guardata e la partita non è stata male chiaramente ci sono le solite amnesie zebrate che succedono però la sensazione che ho avuto è stata che edimburgo l'ha vinta con la testa non tanto con un potere superiore sul campo semplicemente sapendo gestire meglio le situazioni delle zebrate sì però sono andati tanto vicini a vincerle quando al sessantesimo si trovano davanti di sei punti in 15 contro 14 e penaltouche quello è il momento in cui dovevano andare a vincere la partita quando gesi quando gesi gonzalo quella Danilo quello Danilo è stato un mio suggerimento sul video di che ti è piaciuto beh amico mio amico mio eh cazzo adesso ne parliamo ma quando gesi non tanto su quella prima azione che è fantastica ma quando gesi va altissimo a prendere quel pallone lì e il giocatore di edimburgo lo tira giù e si prende il cartellino giallo in quel momento è il sessantesimo e il sessantesimo le zebre passano a essere in 15 contro 14 penaltouche se segnano vanno a più 11 e hanno fino al settantesimo in superiorità numerica invece si prendono calcio in punizione contro si va dall'altra parte il sudafricano che non gioca mai fa un casino della madonna si prende le due penalità dell'euro e lì la partita si compromette peccato eh sì eh sì invece che tesserare atleti italiani tesseriamo questi ecco sappiamo benissimo che questo è il tenore dei commenti sotto questo posto salutiamo il maestro il maestro quello che non deve essere è nominato ma voi sapete chi è ma parliamo ma parliamo scusami Matteo di questo bellissimo video che vi avevamo messo sul su carboregui della meta che ha fatto Garzia che in realtà l'ha fatta Jay cioè Jay ha fatto fuori 5 avversari mi sembra su quell'azione lì ha fatto una meta pazzesca e poi Garzia e abbiamo fatto un po' richiamina Gonzalo l'ho anche taggato eh perché io sinceramente questo ragazzo qua cioè ha fatto una caccarba di mete in due anni di URC è fortissimo io sinceramente lo vorrei vedere in campo con l'Italia non so voi cosa dice assolutamente io sono cioè mi rende chiaro si capisce quali sono le scelte dietro il il selezionare formazioni diverse finora però credo che si sia meritato una scelta non so se magari sia già nei piani di far giocare a titolare le ultime due magari sì e magari lui lo sa benissimo e magari siamo noi che ci ricambiamo una storia dove non c'è detto questo secondo me una chance l'è meritata ricordiamoci la stessa identica cosa due anni fa con Capuozzo poi entra due mete subito contro la Scozia poi contro le Galles andiamo a vincere cioè e ricordiamoci quella partita del Capuozzo col Galles è la seconda partita aveva giocato aveva giocato 20 minuti prima con la Scozia facendo doppietta sì però quello era il debutto una settimana prima cioè nel senso no e Crowley tra l'altro lo ha confessato Crowley in quella famosa intervista davanti al caminetto lo aveva confessato ha detto io avevo un po' paura di far esordire Capuozzo per via delle misure sì della statura diciamo poi ho letto il blog di Carbo Regbi e ho visto quell'articolo su di lui e ho detto questo cazzo veramente promettente e l'ha messo in campo solo due cosine su Gesi allora l'anno scorso 11 mette in 13 partite quest'anno 11 mette in 13 partite e siamo a febbraio quindi io più di così uno che è riammettato il mette a me delle club delle zebbre totali tre settimane fa io una chance lo darei sinceramente cioè Gonzalo so che ti ascolti Gonzalo dai 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 c'è quello che si nomina Martin Docenti che sta cambiando il suo nome in questo istante lo sai benissimo che sta per arrivare un messaggio con scritto Gonzalo Chesada e qualcosa in spagnolo no vabbè ma allora perché è sempre facile dire fai giocare Tizio Caio Sempronio però io la mia idea ce l'ho voi sentiamo la vostra triangolo allargato io allora aspetta che me l'avevo scritto eh perché non voglio dire una cavolata io ho anche per me voglio vedere la doppia la doppia il doppio piccoletto voglio vedere dove andiamo con il doppio piccoletto d'accordissimo è arrivato Line Gal quello volete però sinceramente questo anche per me è triangolo allargato non c'è Alan quindi dimmi no no che volevo volevo argomentare la scelta però se vuoi ti dico no se mi sembra che sono d'accordo con te Ioane Capozzo si può un pochino però Capozzo un pochino sia Capozzo che ci ricalciano eh sì ma non sono oggettivamente dei dei giocatori a cui affideresti una partita al piede un pimpam un tattico ecco detto questo la Francia magari sapendo che hai tre giocatori che se prendono la palla seminano il panico magari ci pensa due volte prima di fargli arrivare il pallone continuamente cioè un conto è se hai un altro giocatore che può ricarciarti da indietro un altro è invece se questi tre sono tre minacce equamente complicate da affrontare secondo me potresti paradossalmente mettendo questi tre ridurre l'intenzione di calciare dell'altra squadra perché sono tre giocatori oggettivamente pericolosi palle in mano alla scozzese quando dietro ci hanno quando dietro vabbè ce ne hanno sempre uno perché adesso gli è arrivato Roe gli è arrivato però insomma ci avevano vi ricordate quando avevano Stuart Dogg Darcy Graham e Van der Merwe per esempio comunque poi ci hanno avuto Kyle Stain adesso ci hanno Roe Patterson non so dove cacchio li trovano gli scozzesi tutta sta gente in Sudafrica in Sudafrica ma io io immagino sto tizio pagato dalla federazione sconsese con tutto quanto tipo in cachi con il cappello tipo da safari che va con la zip in Sudafrica a farsi in alto e cerca allora questo è la spesa il nome un'ala e una seconda linea con la zip convintissimo dai campi delle scuole sudafricane del Grey College quelle cose lì ma sai che a parte degli scanzi avevo visto che facevano gli stand vicino ai tornei con ma c'hai un e vieni canti c'è il partonato con il tipo in kilt la corna musa però buco sulla faccia e dico vediamo chi sta bene qua la parte 1 seconda linea si abbassa un po' sta bene e lì dietro c'è l'ufficio passaporti direi appena dietro no secondo me tra l'altro questa roba ci dice un po' male nel senso che se noi dovessimo andare a pescare dove abbiamo delle persone azzurrabili di questa terra non è più tanto l'Argentina nel senso che ormai la diaspora italiana in Argentina siamo alla terza quarta generazione non sono più tanto azzurrabili quelle persone noi ci arriverebbero i toni soprano di turno da New Jersey probabilmente che i rugby non hanno neanche mai visto in televisione e questa è la nostra sorgente di potenziali oriundi e anche per quello secondo me che abbiamo bisogno spesso di ricorrere al project player rispetto ad altre nazioni ed è lecitissimo eh perché noi non abbiamo giocatori i cui genitori sono andati a vivere all'estero ed è qualcuno chiaro e questi giocano anche in nazionale ma non sono tantissimi non sono un bacino infinito tra cui attività gli italiani di origine italiana all'estero ce n'è una marea il problema è che giocano a rugby? dove vivono? no 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 secondo me però il problema è un altro nel senso che ce ne sono anche che giocano a rugby però il problema li selezioneresti? no ma allora diciamo il problema è che l'Italia per tanti anni non è stata così appetibile tant'è vero che gli stessi Odogvu l'Ainag ci hanno ci hanno pensato un pochettino prima di di accettare di venire a giocare per l'Italia no? ma è normale io non ci farei un processo alle intenzioni è normale che sia così va detto che invece chi non ci pensa nemmeno un mezzo secondo e onestamente probabilmente nella sua carriera avrebbe avuto le sue chance con la Francia e Capuozzo e insomma Capuozzo io credo che li dovremmo veramente stendere i tappeti ma non è italiano Dani non è italiano il padre è italiano no non iniziamo non iniziamo non iniziamo non iniziamo vai in giro con la maniera del Napoli però secondo me però secondo me in queste case di qua c'è sempre un grande chi? degli italiani e parlo di Steven Barney quando hanno detto giocare con l'Italia penso che l'altra persona ha detto chi è scritto questo qua? uno due facere lo cioè aspetta Matt aspetta allora Matt Gallagher cioè tu pensa Gianni Scottone ok che vive a un edifonte in provincia di Vicenza che oltre io non mi ricordo legge articolo Matt Gallagher convocato con l'Italia e pensa un altro qua e viene fuori che è la bisnonna che era l'amica della trisnonna dell'italiana e tu ti rendi allora adesso devono essere devono essere minimo nonni devono essere minimo nonni quindi vuol dire che c'è un nonno italiano nato in Italia appunto basta non sta a fare che tu adesso come il boomer da Facebook cazzo stiamo interpretando quella persona chiaramente stiamo interpretando personaggi da Facebook che sono ormai che tutti avete visto sono effettivamente diventate leggende perché se ne parla anche nei vari gruppi e la gente aspetta il commento di queste persone per molti di scuola ha un triangolo allargato sperandio trulladellini per andare a vincere questa partita con forze fresche credo credo che se vedessi questa formazione spegnerei la televisione non sottovalutate trulla non sottovalutate trulla trulla in realtà calcia molto bene trulla secondo me è uno di quelli che se trova la chiave giusta e il suo utilizzo giusto potrebbe essere un chiavistello tra l'altro stavo giusto riflettendo che se noi dovessimo schierare il triangolo allargato che ho detto io che anche Marco è d'accordo non ho capito se anche Danilo tu sei d'accordo io anche stavo pensando che cazzo vuol dire che può essere un chiavistello che apre che nel senso che riesci ad aprire una partita ah ok una partita congestionata ok un imodium versione calciatore versione reglista e avevo la testa che fumava e dicevo ma trulla chiavistello no nel senso che le partite magari un po' bloccate un giocatore velocissimo ma anche bravo a calciare può essere un'ottima cosa il suo problema è fisico secondo me lì non è tanto le abilità ma vero Marco eh no ragazzi scherzi a parte abbiamo 15 minuti per parlare di due cose la prima è cercare di fare una formazione la seconda che però io vorrei fare prima se a voi va bene sì è quella di parlare un secondo dei due quattro cinque sei sette otto nove dieci dodici tredici 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 che secondo me è il vero colpaccio da maestro di Pavanello che è stato rinnovare il contratto di Thomas Gaio Thomas il signor il signor Thomas Gaio è il pilone titolare dei Pumas titolare dei Pumas ed è uno dei piloni più forti della URC questo per me è un vero colpo di mercato più che noi arrivi cose varie perché questo qua ragazzi è forte è vero cioè questo è uno che cioè veramente è da tanto impatto la partita ricordiamoci contro gli Stormers che ha fatto la magia ma tutte cioè quella contro le Zebra che fa la Capriola si rialza sbatte uno cioè questo è un pilone mobile ma è anche tanto solito in mischia quindi secondo me questo è il colpo di mercato addirittura secondo me più di Laina più di Gallagher questo è veramente un colpaccio ma poi è giovane poi è giovane Gallo e secondo me Gallo ha 24 anni 24 anni quindi insomma entra come pilone entra adesso entra adesso nel suo prime è ancora addirittura giovane un pilone a 26 27 entra nel suo prime e secondo me il grande salto di qualità che può fare Gallo è quello di migliorare ancora un po' di più in mischia nel senso che Gallo se vi ricordate anche anche in nazionale ha delle giornate dove ti mette sotto Daniella Tupou e delle giornate dove invece soffre veramente tantino e secondo me quello potrebbe essere il grande salto di qualità cioè se riesce a essere solido costante in mischia poi per il resto insomma trottolino amoroso mamma mia Danilo tu sappi che ogni volta che metti le pagelle sono le farfalle che muoiono nel mondo una di quelle farfalle sono io una di quelle farfalle sono io no io sono d'accordo più che altro lui poi io sono un'apertura quindi di mischia è meglio che non farlo però da quello che capisco io essendo basso un bel bussolotto i piloni alti fanno fatica durante la mischia perché appunto non allungarsi di più quindi è per quello che anche può riesce a metterli sotto però questo non è bisogno dall'esterno ci sta ci sta è giusto? con le Zebra ad esempio con le Zebra ad esempio no Manfredi non c'era ha avuto esattamente quel problema lì tant'è vero che c'è un arbitro che gli dice in un certo momento capisco che lui è più alto glielo dice al pilone sinistro assolutamente eh sì perché effettivamente devi allungarti di più per arrivare al tuo pilone a posto e quindi perdi un pochino di appoggio e quello invece è più basso riesce a spiegare quindi non lo so io arrivo più in là con le prime linee poi alzo le mani e lascio tutto a fare al nostro Andrea Belli di Carbo Reggae che abbiamo visto sono dei video molto interessanti e che è di recente diventato pilone esatto Andrea Belli che è una seconda linea a Rivera Reggae che salutiamo adesso Andrea fa il pilone quindi ufficialmente only scrims Andrea se dovesse giocare contro Thomas Gallio avrebbe il problema di doversi allungare tantissimo uno uno dei problemi poi no secondo me secondo me lo mette sotto senza alcun problema lo mangia lo mangia letteralmente ma parliamo 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 visto che c'è poco tempo parliamo di questa formazione per la partita contro la fragia va bene allora io me ne sono scritta una di test non so se voi avete delle idee che volete discutere o se no proviamo a dire ruolo per ruolo andiamo ruolo per ruolo facciamo la classica diamo reparto per reparto dai così veloceziamo un po' prima linea io dico Fischetti, Lucchesi, Ferrari scusami Fischetti, Lucchesi, Zilocchi per me dentro Spagnolo fuori Fischetti Spagnolo sta giocando meglio di Fischetti a mio parere e sta volando è in ascesa e lo mette dentro e poi dalle un premio come Marco anch'io metto Spagnolo dall'inizio e anch'io parto con Zilocchi invece che con Ferrari essendo che poi le prime linee a volte le puoi cambiare anche a gara in corsa a volte quelli che hanno meno minuti li metti all'inizio perché dici se poi non ce l'hanno più lo cambio però poi i piloni puoi cambiare a partita in corsa quindi vado con vediamo ma ci sto con Spagnolo comunque, ci sto non mi suona male io sono solo curioso di vedere se il studio della Six Nation mette ancora Mirko Spagnolo come Mirko Spanish Mirko Spanish lo chiamano sempre Mirko Spanish speriamo che sto guardando in questo momento allora, Guinness Man Six Nations Mirko Spagnolo si sta aprendo la pagina a breve sapremo Mirko Spagnolo ah, l'ho insegnato, ok diciamocela chiara 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 spagnolo oggi come oggi in questo momento di forma non come valore generale del giocatore vale Fischetti se non forse qualcosa in te sono d'accordo in questo specifico giorno in questo specifico momento io ho messo Fischetti in campo perché mi fido molto del fischio però ci sto secondo me se devi giocare tre partite di fila forse con la stessa formazione allora forse metto Spagnolo in campo c'è un commentino Crispy di Luigi che dice avete già parlato del fatto che Spagnolo stava forse davanti a Ponyo più tuilagi però non è che per Fischetti sia più facile no, no, è chiaro fischio in mischia no, è vero è vero però effettivamente ha fatto l'esordio contro Dan Cole l'ho messo sotto quindi secondo me Spagnolo è the giant killer il problema è che adesso adesso si trova davanti due Dan Cole in un'unica persona con un cognome giolano cioè è facile che alla prima mischia si abbassa di 5 cm come giocatore come chili come chili credo che Spagnolo 110 110 almeno secondo il rugby e Danilo Fischetti Danilo Fischetti sarà lì 112 sono lì no, comunque può essere interessante e seconda linea io ho messo Cannone Ruzza per affiatamento principalmente sì però tutte queste alternative non ci sono capiamoci io ti dirò un Russo e Yachizi ma Yachizi ma non c'è Yachizi io voglio Yachizi ma posso dirlo posso mi piace mi piace conquistare quella io ti dirò a me piace un sacco Yachizi però vabbè facciamo Russo e Cannone Cannone Russo e Cannone terza linea eh qua è spicy ragazzi qua è spicy ma neanche massa perché alla fine c'è quei Yachizi non è che abbiamo tantissime scelte hai due o tre opzioni c'hai Favretto c'hai Yachizi c'hai Rosvincent allora io ho messo Yachizi con Lama Rozzuliani e in panchina Licata Vincent io credo Lama Rozzuliani al 100% e poi ne manca uno secondo me io ho messo Yachizi e in panchina Licata Vincent quindi due in panchina ok ci stassi no sono d'accordo con Matteo io vorrei solo che sei più due vorrei solo che Vincent alla prima meta con l'Italia la sua esultanza è tipo lui che fa così tipo motorino perché è quello di domino che fa le consegne stupendo quella cosa la stupenda di Vincent lui per la meta fa così per dire che arriva perché non lo sapesse in impegnata in impegnata Ross Vincent ancora fa le consegne a domicilio per Domino's a Exeter sarebbe stupendo tra l'altro parliamo di stereotipi un gioco un internazionale italiano che ti fa la consegna della pizza quando studiava probabilmente d'estate ha fatto un lavoretto ma non credo che adesso lavorando cioè giocando da pro con i Exeter per Cif nell'articolo c'è scritto che ancora fa le consegne però ti immagino questa cosa qua Vincent che fa le consegne ti porta la pizza a casa è estate ed è in cannottiera col mio cipito fuori e il tipo mi dà la mancia tu pensa tu pensa Vincent come lo guarda fa pompare la vena qua comunque io dico io invece dico Giuliani Lamaro Vincent e l'unico mio dubbio è chi fa il 7 e chi fa l'8 tra Lamaro e Vincent che entrambi possono fare entrambe le posizioni sì a me Lamaro 8 non ha convinto troppissimo se devo essere sincero quindi se Vincent è un numero 8 la logica sarebbe Vincent sente Lamaro 8 però diciamo che l'8 porta un po' più di responsabilità nelle uscite da mischia nelle cose potrebbero magari bisogna vedere però vediamolo la mediana l'8 comunque si prende il posolo tuilaghi in placcaggio nel senso riflettiamo su questa cosa perché perché sei tu quello che esce con il pallone nel senso il franco è il franco 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 ma scusami io l'ho sempre visto posolo tuilaghi non ha giocato posolo tuilaghi ma seconda linea ha giocato 8 quando giocava con l'usap per un po' di volte però lei ha seconda linea con la franca vabbè no allora ok ritiro tutto mi pareva che giocasse che fosse in lista come terza linea come 8 seconda linea ed è per quello che si parla di atonio posolo tuilaghi cucciolotto tra l'altro lato lato atonio e quindi se lo trova mamma mia le mischi che fanno creare un vortice da quanto gira tra l'altro l'alternativa sarebbe meafo non è che meafo sia molto più leggerino quindi insomma la francia lì quel lato lì lo poi mediana 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 pagerelo gardini paolo io ti dico quella credo che sia quella più sicura perché l'ha detto che l'ha detto che giocherà lui e garbisi non abbiamo alternative se non marine quindi ah lo sapevo ok perfetto quindi c'è l'altro c'entra di eventi interessante io ti dico Meloncello Brex perché anche se vorrei dare una chance a Zanon ti dico questi due sono quelli che mi porto e stacce però io Zanon me lo porto in panca sì però io Zanon me lo porto in panca solo se vado col 5p3 sì me lo porto in panca se no marine ah io porto in panca marine e Zanon perché marine ti fa se dice che ho il 15 volendo e Zanon invece è una bella alternativa però lì se fai quella scelta lì sei a un bivio nel senso che marine 100% perché se no non abbiamo il backup al 10 cioè se non portiamo marine se si fa male garbisi chi va a fare il 10 l'unico che può farlo è Pajrello però insomma no no ragazzi ragazzi dai con Zanon dai con Zanon dai quindi io credo che marine quasi si credo che marine marine quando Alan quando Alan ha detto mi prendo una pausa gli avrei detto come mi spiace come mi spiace prendi il tuo tempo mi raccomando prendi tutto il tempo di cui tu hai bisogno è vero anche perché una volta quando c'era Padovani magari puoi mettere Padovani a fare l'apertura ma adesso l'unico che ha fatto il 10 è Pajrello quindi poi posso dire una cosa ragazzi riporto al sincero Zanon sono anni e anni e anni che ha sulla testa il Marco della Francia ok? perché quella volta l'apertura quindi secondo me secondo me Zanon questa volta qua spero che lo porti per riscattarsi perché sta facendo una stagione spettacolare però torno al bivio Marco però torno al bivio nella stessa identica situazione di Zanon compreso Partitone nel fine settimana c'è Mori quindi lì tu devi scegliere Zanon o Mori io forse con la Francia Mori visto che gioca anche in Francia e Zanon magari col Gallo adesso la scuola io ti dico io in Portugais Zanon perché di Bassone Grappa forse però in Portugais Zanon tra i due io tra i due mi prendo Mori l'unica cosa è bisogna vedere la panchina nel senso che vai con la Francia con un 5 punto con un 5 più 3 la Francia secondo me è una squadra di grossi veramente grossi che rischi che il 5 più 3 ti sia tanto tanto se vai col 6 più 2 secondo me Marin è indispensabile e beh chiaro e lì salta al centro con il panchino però posso fare una piccola cosa cioè Marin ti può fare anche il centro sì per quello infatti mettiamo secondo Mori e Zanon e guardiamo appunto il visto delle skis l'offload secondo voi chi sarà di più? Mori o Zanon? guarda che Movi sto anno ti ha fatto lo stesso identico no 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 offload non sto facendo simili simili ragiona col cuore ragiona col cuore quindi offload simili calcetto skis al piede Mori e Zanon nessuno dei due nessuno dei due per favore che non succeda mai questa cosa ho visto fare un paio di grabber Zanon sinceramente sì ok ok però anche Mori sappia fare un grabber cazzo sì o dici che proprio molla il pallone e lo cica tipo sto facendo una lista di priorità ok quindi ho detto offload simili grabber o skis al piede io sicuramente appunto appunto no il terzo punto è sicuramente più importante c'è che viene a Bassano e Grappa ecco esatto secondo me la nonna di Bassano e del Grappa che gli permette di avere la città è leggibile è leggibile per giocare a Bassano e del Grappa perché quindi no io sinceramente io cioè punterei su Zanon su questa partita qua a parte tutto quanto il discorso che faccio io il coglione però secondo me se lo merita per la stagione e per come effettivamente sto giocando anche l'ultimo a Dublino quindi per me Zanon io invece ti dico 5 più 3 o 6 più 2 se vai con il 5 più 3 mi porto Mori per questa e Zanon per la Scozia se vai con il 6 più 2 nessuno dei due perché mi porto Marin solo però forse in questa andrei col 6 più 2 mio malgrado perché la Francia secondo me è la squadra più fisica che troviamo per cui ci sfascia semplicemente ci sta sai più che altro vi aggiorniamo che la stima scorsa mi sembra questa cosa qua che Marin ha la possibilità adesso di emergere perché Alan si prese una pausa quindi ci sono questi giocatori che fanno Vincor o Vincent che appunto possono emergere perché uno è infortunato si prea una pausa e quello è un po' il loro spotlight quindi hai l'occasione dai tutto quindi male per Alan ma bene per Marin male per Negri ma bene per Isecor quindi ci sono queste situazioni in cui alla fine conti hai un grande giocatore male per non c'era ma bene per Pippo Alonji mamma mia anche se non giocherà perché credo che siano racconti dipende da Ferrari se Ferrari non sta benissimo potrebbe anche giocare Alonji tu sai dove era Alonji qualche anno fa? e lui era in banca quando io ho detto quando io ho detto Alonji 2023 mondiale Alonji era in banca a Cardiff quando avevamo vinto se non sbaglio ah sì 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 quindi Alonji talismani in banca io me lo porto come Padoin questo è un tagaccio da un po' di anni e sa sì 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 a muletto ci manca il taglio da ragazzo abbiamo già detto alla fine ragazzi cioè almeno per me Matteo è così tu Danilo come lo porteresti? no l'ho detto anch'io ho detto io parlo in Brex Brex menoncello e in panchina potrei come Matteo lo dico potrei Mori se vado col 5 più 3 no no il triangolo il triangolo il triangolo ah no no uguale io allora uguale è giusto che Lainag aspetti che tutto eccetera eccetera per come sta giocando Ioane secondo me se dovessi scegliere veramente senza far nessun ragionamento di gruppo Jessica Pozzo Lainag non mi farebbe così schifo come a pei no il fatto è che in teoria Lainag era in vacanza in Portogallo fino a qualche giorno fa quindi non so quanto sia arrivato stantissimo sto parlando potenzialmente per una prossima o per due secondo me anche Ioane non è che sia la vacca sacra che non si può toccare vediamo cioè intanto c'è Lainag dietro che li soffia che li soffia sulla nuca e poi perché ridi perché ho detto la vacca sacra si potrebbe sprecare Ioane non è la vacca sacra ok l'induismo sai ma li hai seguito parlare si 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 dai tranquillo ma in realtà ti dirò a me Ioane non è che stia dispiacendo sinceramente almeno cioè le volte che ha avuto la possibilità di fare cose con la palla in mano e senza non è che stia giocando malissimo con l'Italia secondo me come si dice Jessica Pozzolainag è il tridente che ci farà vincere a Cardiff anche quest'anno attenzione perché la tocco piano sul tavolo però io a me mi hanno accusato anche qualcuno che ci è coincato in maniera simpatica ovviamente mica tu pensi che sia simpatica tu pensi che sia simpatica intanto non lo sa dove abiti di essere un hater di Ioane non lo sono assolutamente anzi a Treviso ricordo che in quella partita col Giappone che fece tripletta gli gridai Monti torna Treviso e qualcuno dietro mi dice no Paul no Paul tradotto in italiano non può per varie vicissitudini i gettaia i gettaia calcosa insomma l'ho amato Ioane però in questo momento lo vedo perso per il campo lo vedo un po' disubicato lo vedo un po' sai come si dice in inglese headless chicken come si dice headless chicken bravissimo anche in spagnolo si dice pollo sincavessa pollo sincavessa pollo senza testa che va un po' in giro quando tagli la testa alle galline che poi vanno avanti quanto vanno avanti 20 secondi qualche secondo hanno una corsetta tu studiavi le galline Matteo chi meglio di tacit può dire no non faccio lavoro con le galline sta lanciando una serie di accusa allora Ioane non è la vacca sacra tu Matteo studiavi le galline io ho lavorato in un progetto per sviluppare del cibo per polli e lavoravo sul microbioma neanche sul pollo devi sapere quanti secondi vanno avanti senza testa notoriamente si nutrono anche in quel momento detto questo ragazzi vi chiedo un pronostico per questa partita Danilo prima leggo il messaggio di Silver perché vale la pena Silver dice Ioane è passato da vacca sacra a gallina senza testa nel giro di un minuto ciao Guido pronostico 70% 70% è il pronostico è plausibile comunque sento le tue porca vacca per fortuna 70% Francia 30% Italia che è tantissimo rispetto a quello che ci danno perché secondo me l'Italia se le gioca le sue chance e se devo spararne una vaffanculo sparo che vince vince l'Italia se devo sparare così un numero dico che vince l'Italia dai non devi sparare un numero devi dire quello che pensi allora però io riesco a dare o una stima oppure un stima tre mete di cui una trasformata perché non abbiamo Allan quindi 15 17 un calcio perché dobbiamo andare a fare mete per battere la Francia 20 20 a 18 dai 20 a 18 20 a 18 qualcuno ha detto sudando tantissimo qualcuno ha detto mi voglio osservare come potete fare i conti l'ha sentito un po' in eco 15 18 vivo se vinciamo 15 a 18 io veramente 15 a 18 se vinciamo 15 a 18 il prossimo episodio in dialetto ma non si discute se vinciamo 15 a 18 la prossima volta parliamo so che in tre visano parmese esatto mesa ora i dialetti le varianti io ti dico io ti dico che la Francia fa 4 mete nel primo tempo e noi una e siamo probabilmente 28 a 7 dopodiché ci svegliamo un attimo facciamo un buon secondo tempo ma non basta 35 a 15 Francia allora secondo me sì cioè la Francia al primo tempo mette parte in mega potenza metteremo Gesi in titolare e fine primo tempo che è stata fuori discorso sui ragazzi poi si chiude in un secondo e ci scrive Scarborough tipo vaffanculo perché ha messo di titolare esce il 29 senza che ci sia un infortunio proprio sai quei cambi anticipatissimi tipo quel giocatore che fa come fa Zaro dai un cazzo lo scrive no secondo me ragazzi finirà perché ci credo sono sempre romantico io quando faccio queste cose secondo me finisce tipo 24 loro 31 noi meta di Gesi e meta di Vincent mette di Gesi e meta sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo meta di Gesi e di Vincent se vinciamo sarebbe ancora più bello ma sulla cosa che Marco ha detto tra il primo e il secondo tempo faccio l'ultimo l'ultima parentesi l'ultimo inciso avete sentito l'intervista che ha dato Chessada a Virgin Sport è uscita un'intervista una delle poche che ha rilasciato Chessada non perché non le voglia rilasciare ma perché è complicatino averlo e insomma lui ha detto interessantissimo il giornalista lì dice che cosa avresti fatto di diverso nella partita con l'Inghilterra lui ha detto ma caspita io eravamo lì vicini nel punteggio eccetera siamo stati anche davanti sono andato negli spogliatoi e pensavo di dover calmare i ragazzi perché pensavo di trovarli tutti super excited super excited invece ha detto invece li ho trovati calmi troppo calmi ha detto li ho trovati e quindi ha detto ho fatto il mio discorso più o meno normale e invece probabilmente avrei dovuto esaltare la squadra ed è interessante sta cosa che Kessada è andato giù pensando di trovare questi italiani che non vincono una partita da una vita tutti dai dai e invece li ha trovati tutti super relax che palle stiamo vincendo ci tocca pure vincerla questo ed è interessante per capire ma secondo me è maturità se tu fossi là dire oddio la stiamo vincendo è un po' da naiva invece calmi secondo me più concentrati più ok siamo là possiamo farsela quindi secondo me è maturità questa cosa forse influisce secondo me anche comunque che tanti di loro giocano al Benetton e quest'anno sono andati negli spogliatoi praticamente quasi sempre avanti nel punteggio e quindi insomma cioè capire invece magari che Sada appena arrivato diciamo stiamo vincendo la prima forse era lui che era hyper hype dice stiamo per vincere la prima però aspetta la fine del primo tempo Dani aspetta Dani immagina che Sada è la prima partita che fa con l'Italia ok la fa contro l'Inghilterra ed è lì su punteggia qui nel primo tempo tu pensa a lui che va giù per le scalini tipo e io mi immagino la scena è questa lui entra dentro super hype dicendo adesso li devo calmare li sono tutti esaltati eccetera e come scrive Silver l'amaro li fa beccio calma che tanto calma calma mi immagino sì sì questo film l'abbiamo già visto mille volte calma no diciamo per chiudere un po' la puntata magari a parte i pronostici che si fanno sempre in maniera un po' irrazionale secondo me se vuoi giocartela con la Francia ti devi appendere alla disciplina che loro solitamente non sono esattamente dei maestri e soprattutto in questo momento alla loro poca coesione in mediana ti devi un po' appendere a questo quindi non hanno Dupont non hanno un Tamac hanno tanti giocatori forti ma non hanno i loro leader esatto bravo non hanno i loro leader per cui noi dobbiamo secondo me puntare tanto sull'aspetto della disciplina della frustrazione e della disorganizzazione della disorganizzazione come si dice quando si disuniscono disorganizzazione no quando no che si disuniscono cioè sull'unità di squadra che viene a mancare quando le cose non funzionano dobbiamo puntare tanto su quello secondo me questo si sono d'accordo perché se c'è una cosa che può succedere per come sta in questo momento la Francia e che se li stiamo vicini nel punteggio a fine primo tempo quelli gli viene una pressione addosso perché in Francia stanno criticando la nazionale in una maniera incredibile si gioca in casa loro che secondo me è meglio nel senso che gli può venire una pressione clamorosa e noi da underdog da underdog potremmo andare a fare l'impresa però è ovvio che è un'impresa cioè si chiama impresa non per niente io dirò l'ultima cosa l'ultima partita dell'Italia contro la Francia al mondiale c'è andata una spappinata incredibile più gesti dell'italiano così cioè secondo me io punterei un tantino che su quello cioè alla rivincita alla rivalsa veramente a dire ok cioè mettiamoci le cose sul tavolo e non dirò cosa però io e poi tutti e poi tutti così a fine partita io vorrei cannone che fa così altri in tribuna capisci ah madonna che sogno va beh esatto allora fa così ad altri in tribuna va a dargli la mano mentre li inquadrano fa ma basta che ce ne danno 60 dai andiamo mangiando dai andiamo a mangiare buona serata a tutti come sempre i link nella descrizione dell'episodio noi vi vi ringraziamo per essere rimasti in linea tanti che siete e per chi si sta contando da spotify ringraziamo anche voi perché ci date un sacco di views e di buone recensioni che dire noi ci sentiamo tra una settimana se ci riusciamo con un ospite ci stiamo provando buona sera da tutti ciao e buona cena suppongo ciao 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 ragazzi baci sparsi e sogni morbidi